Una proposta di acquisizione delle quote societari del Taranto Football Club inviata tramite posta elettronica alla società Rosso Blu. L'offerta è partita dalla cordata romana che fa riverimento all'avvocato Luca Tiglia e di 1.400.000 euro con modalità di pagamento da concordare. La missiva è partita dall'indirizzo di posta elettronica di un avvocato che fa parte del gruppo di imprenditori interessati al club Ionico. Questo conferma che la trattativa con il gruppo della Capitale per la cessione del sodalizio calcistico tarantino c'è stata realmente. L'offerta era da considerarsi valida fino allo scorso 7 marzo. Nel documento si fa riferimento ad un incontro che si è tenuto il 3 marzo nella sede dell'azienda del presidente Massimo Giove, il quale ha fatto sapere di non conoscere nei dettagli i potenziali acquirenti e pertanto la proposta, così come è stata formulata, non sarebbe ricevibile. Quando si cede una società, ha sottolineato Giove, è necessario comprendere chi sono gli acquirenti, in quanto si è responsabili della stessa cessione. Grazie. 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 Grazie.